piano ti ho detto piano l'iperforza o la sposti in alto e poi la richiudi è bravo vedi i buschi? ricordatevi i buschi bravo guardate lui dove è andato se no non ci state neanche voi che arrivate dritti mi sa che è sufficiente così mi sa che è sufficiente così direi che è abbastanza fatta già così